Non so che dire perché sto valutando, cioè da apriare i poliporti, caricarli e cosagli. Qui è tutto un casino. Non è la prima volta che succede, purtroppo. Non è la prima volta, no. Non se lo spiega ancora il proprietario di questo allevamento quello che possa essere successo. Di fatto c'è stato un incendio all'interno di uno dei capannoni e 8000 pulcini sono morti. Alcuni per asfessia, altri sono bruciati. Quindi funzionale, il funzionamento, l'elettricità era tutto qua su, qua giù, era tutto fermo. I motori del mangime erano fermi, i motori della scossa, che gli danno la scossa per via che montano su, era rotto, ero al comodale da lui. Ho finito di al comodale, sono venuto su e ho trovato bruciato ogni cosa. È successo a Motina, frazione del comune di Anghiari, erano circa le 12.30. Per cause ancora in corso di accertamento, il capannone ha preso fuoco sul posto. Sono intervenuti a tempo di record i vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro, poi in supporto anche quelli di Arezzo. Il rogo è stato domato nel giro di un paio d'ore. I pulcini avevano circa 20 giorni di vita, quasi pronti per passare alla fase successiva di crescita. Solamente in tarda serata sono stati avvertiti i carabinieri della stazione di Anghiari che hanno raggiunto la zona. Il capannone non è sotto sequestro. Non è la prima volta che si sviluppa un incendio in questo allevamento. Anche l'altra volta l'è preciso, non si sa, però c'era il riscaldamento, il gas è un po' complicato. Può essere che è stato quello. Adesso io non lo so, non ho idea.